Un quartiere fortemente degradato, i cui abitanti lamentano mancanza di illuminazione ed interventi sulla viabilità, di servizi con le fogne e la raccolta dei rifiuti. Per richiamare l'attenzione sui problemi atavici di Viale Isonzo a Catanzaro, alcune associazioni che operano sul territorio hanno indetto un sit-in nel quale hanno messo insieme cittadini ed istituzioni per parlare ancora una volta dello stato di degrado di quest'area. Oggi siamo qua come movimento civico per sostenere la battaglia della parte sana di questa comunità che sicuramente è stata completamente abbandonata dall'istituzione, sia dall'amministrazione comunale, sia dall'Ater perché è proprietario degli immobili e qui c'è veramente una situazione di degrado che deve essere affrontata una volta per tutte e non bisogna abbandonare questa che è una realtà importante della città di Catanzaro. Speriamo che non solo oggi, che magari in virtù di questo sit-in sono stati fatti dei piccoli interventi, che questi interventi siano fatti come dovuto da capitolato dalla gara di appalto del comune di Catanzaro e che vengono eseguiti con una certa normalità per garantire almeno l'ordinaria a queste cittadinanze. Ad aggravare la situazione è arrivato anche il provvedimento con cui il governo centrale ha sospeso il bando periferie costringendo la città di Catanzaro a bloccare interventi per 18 milioni di euro. La concentrazione è molto sui problemi strutturali del quartiere quindi le fogne, le strade e così di questo tipo però abbiamo anche una piccola ambizione ed è quella di portare questa istanza anche su un piano nazionale anche perché in particolar modo in questo quartiere e sulla struttura che vedete alle mie spalle avvigeva un finanziamento da parte del governo nazionale cosiddetto finanziamento sulle periferie la città di Catanzaro aveva ottenuto 18 milioni di euro di finanziamento e avrebbe previsto la riqualificazione non solo del quartiere di Via Lisonzo ma anche Pistoia e Aranceto purtroppo il governo ha bloccato questi fondi per cui la prima invocazione che facciamo è al governo nazionale affinché sblocchi questi fondi per le periferie che interessano circa 100 capologhi di provincia a livello nazionale per cui potremmo osare dire tutte le province d'Italia Al SITIN era presente anche l'assessore comunale ai lavori pubblici Franco Longo l'attenzione sulle questioni che riguardano Via Lisonzo dice c'è ma anche i cittadini devono fare la loro parte Più volte ci siamo interfacciati con l'ATERP finalmente siamo riusciti per competenza ad eliminare tutte quelle fuoriuscite di liquame che attraversavano sia i cortili che le strade quindi da qui a breve possiamo finalmente eliminare quegli inconvenienti che riguardano la sede stradale più volte siamo intervenuti per togliere tutto quel materiale che quotidianamente gli abitanti di Via Lisonzo buttano e quindi si creano delle vere e proprie discariche tant'è che proprio avanti ne ho fatto togliere uno e stamattina è di nuovo là Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!